Da qualche settimana a Fano sono entrati in azione in via dell'Abbazia e in via Papiria, in corrispondenza dell'incrocio con via 4 Novembre, le telecamere che rilevano le targhe degli autoveicoli in caso di violazione del semaforo rosso, ma non solo, come è capitato ad alcuni utenti che ci hanno segnalato di aver ricevuto a casa una multa di 42 euro e la decurtazione di due punti sulla patente per aver, questo a loro detta, oltrepassato con il semaforo rosso la linea bianca di arresto, fermandosi però sotto la lampada semaforica senza attraversare l'incrocio. Purtroppo questo caso rientra tra le cattive abitudini nelle quali incappiamo da utenti della strada e che noi automobilisti proprio dobbiamo cancellare radicalmente dalla nostra quotidianità, soprattutto durante l'attesa al semaforo rosso e la dotazione in diverse città di questa tipologia di telecamere, dato che i sensori rilevano anche di poco i superamenti della striscia bianca e così poter incappare nella contravenzione recapitata al nostro ascoltatore. Il codice della strada in effetti parla chiaro in questi casi, all'articolo 41 ricorda che durante il periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di arresto. La legge è diventata più severa dal 2010, quando è stata approvata la legge numero 120 che ha introdotto nuove disposizioni sull'accertamento delle violazioni, come appunto le nuove telecamere. Il superamento della striscia in caso di semaforo rosso è quindi punito con una multa che può variare da 41 a 169 euro. Ma attenzione a tarda sera, quando l'infrazione, se commessa, diventa ben più grave perché dalle 22 alle 7 del mattino le multe aumentano tutte di un terzo, passando da 55 euro a 225 euro. E a poco serve, come è sottolineato e richiesto dall'utente segnalatore, la presenza o meno di un cartello, peraltro assolutamente non prevista, come ci sottolineano dalla polizia locale, dato che ogni bravo utente della strada deve obbligatoriamente sapere che linea bianca a terra significa stop.